buffetto guardami attentamente facciamo così facciamo un patto lucazzo bidone ma napoli campione se tu mi dici lucazzo è un bidone ma il napoli sarà campione e allora ti dico va bene va bene caro buffetto i buffetti mi adorano lo so che io sono sportivo con i napoletani quanto meritate lucazzo ha segnato te l'ho detto io però segna mctonomi mcdonald's mctonomi torino 0 napoli 1 zitto zitto e conte il condottiero quando vincevamo noi così scudetti ma che vince 1 a 0 ma conte gioca male come vincete questi scudetti ora è buono antonio conte che buffetto per ora antonio conte è innamorato capito quindi figura di noi juventini che quello era capitano juventino e semi juventino capitano giocatore allenatore figure noi e tu invece mi infierivi parrocchino parrocchino ma tu hai capito che un parrocchino ti sta portando il quarto scudetto scudetto abbiamo parlato scudetto 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 for for a forza 4 su scudetto guarda cioè mettere alla fine conte a forza 4 lo scudetto minchia ragazzi i 4 dell'ave maria guarda comunque punti pesantissimi segna mctonomi che ad oggi mctonomi è il ceno campista più forte di barella più forte di cianaboclo più forte di anghissà sto dicendo qualche cosa di mano perché sa cosa è poi alla fine più forte di locatelli vabbè più forte di dacastoluis più forte di tutti avete veramente chiacchia conte che ha messo mani su questo mctonomi chapeau mi levo il cappello perché veramente un grandissimo ceno campista ragazzi fa tutto fase offensiva fase difensiva grandissima visione di gioco segna pure capito ecco perché i scudetti si vengono così ragazzi miei non è che segna ora se stai con lui cazzo mi sa su cazzo vabbè e chi segna sempre nelle partite diciamo vedi che a roma perché segnava vabbè a roma a roma è scarsa ma diciamo che lo cazzo segna sempre diciamo con le piccole squadre non segna mai con le grandi oggi alla fine vabbè non dice niente lo calificio ma qualche sponda che cosa ma non ha segnato ma detto questo a parte di quel bidone ma napoli campione ci mostra ragazzi il napoli ad oggi non è nella migliore difesa non è nel migliore attacco e dando il primo 32 punti come dica sicilia stuia tu musso stuia tu musso puliamoci il musso però intanto corto musso ragazzi un napoli diciamo possiamo dire vabbè chi è antinapoleta dice ma questo napoli che culo che stitico ma l'allenatore è così l'allenatore è il napoli ha la stitichezza e napoli-lecce 1-0 empoli-napoli 0-1 capito poco in giù napoli-roma 1-0 torino-napoli 1-0 a 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 poi ci fu mi pare un napoli-palma 2-1 ma 2-1 e sembra un go di scarto capito poi con noi pareggiato 0-0 cumila ha vinto perché cumila pure quando l'ha trovato era pure inguaiato con l'inde diciamo che l'inde aveva dominato ma ha ciuffato un pareggio l'unica squadra che ci ha messo le palle in faccia però è anche vero che uno può dire la tante per me momentaneamente è che ho fottuto un napoli però uno può dire vabbè però sai cos'è magari la rigiochiamo sai 12 e mezza ci sono partite strane no? come dire se è genio? che ho detto io 2 fisso del genio azzeccato capito? non la gioco perché è 11 e mezza il tuo contrario succede comunque una delle 7 sorelle già una già è svanita perché visto che a Lazio c'è gente che pensava che a Lazio poteva vincere il campionato ma la Lazio già palma già subito vum 3 a 1 capito? è capace oggi di questo clamoroso e questo ora ci sarà l'inde all'esera poco e ragazzi l'inde l'inde se vuole avere il passo del napoli deve almeno vincere a Firenze obbligatorio perché oggi già si pareggia e già perde la corda puoi anche scarare l'everest che roba è scritto capito? perché oggi per me Fiorentina-India la vedo come pareggio ti dico sub quello è un X quella che vince 2 a 2 perché vedete guarda quindi il Napoli in stitichezza vince come vince soffre ma vince eh ragazzi uno può dire da grande squadra soffre poi dice perché dico Napoli da campione no? perché a questo punto ci credo pure ci credo Napoletano quindi figura diciamo quello che non è Napoletano lo sai perché ci credo ragazzi che vince su un squadetto alla fine? perché ci fu al dopo il gol di McTonomy no? due minuti dopo al 34esimo Chiru Torino mette una palla e mezzo oh Chiru Coco Coco da solo bastava che l'appoggiava che ha fatto si è proprio si è scontrato con i suoi piedi non doveva mai dire gol ma come si fa? Coco Fufu Coco se no Coco è stato un ragazzo di colore cupizzetta che ha fatto? si è praticamente catapultato con i suoi piedi si è incrociato i suoi piedi ed è caduto da solo ora io dicevo se ci fosse stata soprattutto a Juvenzo che lui Coco cosa faceva? la piazzava gol 1 a 1 e finisce la partita capisci? per vincere il scudetto ci sono ragazzi tante varianti ci vuole l'anno giusto senza infortuni chi tu sei 1 a 0 chi tu sbaglia ti rende con è così ragazzi quindi Napoli ripeto napoletano se mi scrivi Lucacone Lucazzo Bitone ma Napoli campione allora se dici così per me vincere il scudetto per me ripeto sei il male minore basta cominci l'Inter io insomma che boh noi che siamo sfigati noi 9 infortunati napoletano capito Buffetto quando capitano a te i 9 infortunati e non ne vinci manco tu campionato però per ora deve andare così la sorte va avanti a noi ormai da 4 anni siamo sfigati al di là di tanti problemi c'è la società c'è la puntualizzazione c'è gente che magari ancora non abbiamo non abbiamo acquistato quei 2-3 top play però Napoli ad oggi ragazzi ripeto certo l'Atalanta si vince che a Roma ripeto comunque tutto sta questa domenica chi può sa cos'è a Roma volendo gioco a lunedì ma Roma se il raniere riprende la medicina giusta e tutto immagino che a Roma l'Atalanta non vince ci può stare l'Inter e Firenze ci può stare non vince a Ewenza pareggite che a Lecce ci può stare speriamo di no quindi ripeto a Lazio già praticamente già questo tre uno coparma quindi ci sta con Napoli ora praticamente spera che tutti che pareggiano pareggiano e perdono pareggiano e perdono ci può stare anche là sotto nessuno vince ci può anche stare forse di quello che vedo forse attenzione ma è una mia opinione forse vincerà l'Atalanta e i Wendus ma l'Inter non la vedo che vince alle 6 tanto alle 8 commenteremo Fiorentina-Inter qua sono per scritto a gufarti comunque complimenti alla stitichezza dei buffetti ripeto e andate avanti sia per inerzia sia un po' di culetto perché i cocola veramente ma anche Napoli si sta dimostrando una signora squadra e potrebbe vincere questo campionato il suo quarto campionato va bene Conte dove va Conte Conte mette legge come allora quella più forte Inzaghi contro Conte quella più forte Inzaghi molto più forte di Conte Alleghi più forte di Conte capito lo stesso Motta molto più forte di Conte tutti più fatti di Conte a me li vedo mi sta sul cazzo parrucchino però bisogna essere onesti ogni volta che lui si appresenta è proprio un'altra nascosta il decimo posto ma ha capito che era il decimo posto ma ha capito che l'indale a 10 hanno cominciato campionato arrivò a Conte e vincere il campionato hai capito che lo stessi stava inguagliato e vincere il sesso campionato capito Conte è scudettato non c'è un cazzo da fare guarda Conte è il re delle scudette secondo me e il re delle cempe è Angelotti è così ragazzi questo bisogna dire sul caccio le cose giuste saluto buffetto ripeti scrivi Lucazzo bitone ma Napoli campione allora così capisce di caccio si tu e io ciao